con questa messa la chiesa dà inizio al sacro triduo pasquale una celebrazione in cui si commemora la cena nella quale il signore gesù nella notte in cui veniva consegnato offrì a dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino li diede poi agli apostoli affinché li ricevessero comandando loro e ai loro successori nel sacerdozio di perpetuare l'offerta in sua memoria a presiedere la cerimonia sua beatitudine il cardinale pier battista pizzaballa patriarca di gerusalemme dei latini nella sua omelia il patriarca ha ringraziato la vicinanza e generosità delle persone anche del santo padre nella sua ultima lettera papa francesco ha voluto riconoscere la situazione attuale della terra santa che vive una pasqua difficile lo stesso è stato anche per gesù che ha dovuto affrontare il momento più difficile della vita il tradimento l'incomprensione e l'abbandono una pasqua difficile è stata quella di gesù come è difficile l'amore quello vero quando si compie nel dono di sé fino alla fine senza fermarsi la lavanda dei piedi che si fa subito dopo l'omelia ricorda il modo in cui cristo ha insegnato ai suoi discepoli durante l'ultima cena ossia di lavare i piedi gli uni agli altri dopo la lavanda dei piedi il celebrante si rivolge ai presbiteri domandando loro se vogliono rinnovare le promesse che nel giorno dell'ordinazione hanno fatto davanti ai propri vescovi e al popolo di dio l'altro momento molto particolare è la benedizione degli oli sacri che saranno utilizzati per l'unzione dei catecumeni degli infermi e per la cresima una messa celebrata davanti al luogo della morte e risurrezione del signore dove risplendono l'unità del mistero pasquale e la relazione tra la mensa del signore e il sacrificio della croce che viene commemorato il giorno seguente sul calvario questa intima connessione vive anche nella processione con il santissimo sacramento che fa tre giri attorno all'edicola il terzo giro include anche la pietra dell'unzione sono stato qui già dalla domenica delle palme per cui ho potuto vedere anche gli ingressi dell'inizio di quaresima degli ingressi quaresima delle altre comunità io sarò ordinato nel sabato santo delle quelle comunità che celebrano il calendario giuliano questo dice l'impegno a partire di ripartire sempre da gerusalemme dal luogo dove tutto è iniziato dal luogo dove si condivide tanto dolore tanta passione gesù si consegna a noi ma per questo noi ci consegniamo a lui e diciamo a tutti che il signore è risorto ed è speranza per tutti è una grazia è una grazia proprio in questo giorno dove rinnoviamo le nostre promesse sacerdotali qui dove gesù sul calvario ha donato la vita per noi sento proprio questa gioia di consegnare la vita a lui e rinnovare le nostre promesse di mettersi al servizio della chiesa per mezzo del sacerdozio sono molto contento di aver vissuto questo momento di respiro in questo luogo santo siamo tantissimi sacerdoti venuti da tutto il mondo sia per motivi di studio che come pellegrini ci siamo goduti questa festa del sacerdozio nel luogo dove nasce il sacramento dell'ordine del sacramento sfintei preocii